Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noe. Fermo il campionato di Lega Pro che riprenderà soltanto fra due settimane e per i rossoneri della Lucchese ci sarà la trasferta sul campo della capolista Alessandria. La truppa di Nanu Galderisi è ripreso da sabato pomeriggio ad allenarsi. Lunedì è prevista una doppia seduta. Le notizie del giorno riguardano un po' il mercato. Dopo Florio nelle prossime ore dovrebbe partire anche Leandro Martinez e l'infermeria perché se ci sono buone notizie sul conto di Mingazzini, il cui problema muscolare sembra meno grave del previsto, si è fermato zecchinato per una sospetta lussazione ad una spalla. Intanto in vista della gara di Alessandria dovrebbe tornare a disposizione anche Cecchini che pure sta svolgendo lavoro a parte per una distorsione ad una caviglia. Si è invece giocato regolarmente negli altri campionati. Cominciamo dalla serie D, la diciottesima giornata prima di ritorno. Questi risultati. Fezzanese-Grosseto 1-1, finale Ligure-Massese 1-1, Gavorano-Viareggio 2-2, bel pareggio del Viareggio. Le Alforte-Querceta-Rigorna 3-1, Savona-Ponsacco 2-1, Sestri-Levante-Ghivi-Borgo 1-2. Dunque in netta ripresa la squadra di Amoroso. Sporting Recco-Lavagnese 3-4, Unione-Sanremo-Montemurro 1-0, Montecatini-Argentino 1-0. Classifica, Gavorano 37, Massese 34, Savona 33, Realforte-Querceta-Lavagnese-Sanremo 31 per le prime posizioni. Viareggio-Ghivi-Borgo sono a quota 15. Ora all'ultimo posto c'è lo Sporting Recco con 13 punti. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza abbiamo da proporvi alcune fasi della partita giocata a Camaiore, stadio comunale di Camaiore tra Camaiore e Gambassi. La prima azione che vediamo riguarda a questo punto della partita il Camaiore sotto per 0-2. Questo svarione difensivo della squadra ospite di Gambassi consente a Bluamaranto di accorciare le distanze. Ma il Camaiore che a questo punto del match stava già giocando in 10 uomini per l'espulsione del suo portiere titolare, infatti si aprono ampi varchi in contropiede e il Gambassi può fruire come vediamo anche di questo calcio di rigore che permetterà ai giallorossi ospiti di fissare il punteggio prima sul 3-1, poi addirittura arriverà anche il 4-1. In una giornata che ha fatto registrare la sconfitta, l'ennesima sconfitta di una stagione davvero nata sotto una brutta stella del Pietrasanta e mentre il Seravezza si è imposto per 1-0. Ma vediamo il quadro completo della prima di ritorno. Camaiore e Gambassi 1-4, Castelfiorentino Urbino Taccola 1-2, Cuoio Pelli-Pietrasanta 1-0, Larcianese-San Gimignano 1-2, Ponte Bugianese-La Portuale 4-1, San Marco Avenza-Roselle 2-1, Seravezza-Piombino 1-0, Sporting-Cecina-Cenaia 1-2, Roselle 33, Seravezza 31-Cenaia 28-Piombino 27 per le prime posizioni. Bene, Seravezza in difficoltà, il Camaiore, terzo ultimo con 15 punti e soprattutto il Pietrasanta sempre più ultimo con soli 9 punti. Andiamo in promozione, quindicesima giornata, ultima di andata. Calenzano-Sagginale 3-1, Lammari-Ceretese 3-0, Malisetti-Quarrato 1-0, Ponte Amoriano-Aglianese la gara si è giocata a Pontedera 1-3, Pontremolese-Lampo 2-1, Staffoli-Castelnuovo 0-2, settima vittoria consecutiva per la squadra di Micchi, Maianese-Firenze-Ovest 1-1, Vorno-Lanciotto-Campi partita spettacolare 3-3, Aglianese 38, Firenze-Ovest 31, Lanciotto-Campi 29, Castelnuovo 28, sono le prime 4, il Vorno è a centro classifica con 20 punti, il Lammari è terzo ultimo con 12, chiude il Ponte Amoriano con 8 punti. Per quanto riguarda la prima categoria abbiamo lo stesso delle immagini che riguardano la fase iniziale del match tra Acqua Calda-San Pietrapico e Fornoli, siamo nella fase iniziale del match e il Fornoli, capolista di questo campionato, la squadra di Alan Renucci, si porta in vantaggio con questa rete. Poi la squadra guidata anche da Mirko Taccola come leader, mentre rivediamo il gol del vantaggio del Fornoli anche a rallentatore, dicevo l'Acqua Calda reagisce e riuscirà a pervenire nel corso del match al pareggio, la partita si concluderà sul punteggio di 1-1. Primo piano anche di Alan Renucci, vediamo i risultati, Acqua Calda-Fornoli 1-1, Folgor Maria-Riverpieve 3-2, Sextun-Don Bosco-Fossone 0-1, Montagna-Pistoiese-Monsummano 0-2, Piae-Fosciane-Chesino-Ozzanese 2-1, Serricciolo-Villa-Basilica 1-0, Sporting-Buzzano-Capezzano 0-1, Unione-Montignosa-Puania 0-0. Il Fornoli rimane al comando con 31 punti, Villa-Basilica-Folgor e Serricciolo 28, Don Bosco-Fossone 25, poi via via tutte le altre. In seconda categoria abbiamo i risultati del girone C. Atletico Lucca-Orentano 0-1, Barga-Cascine 2-1, Corsagna-Santa-Maria-Monte 1-2, Gallicano-Aquila 0-2, Lucca-7-Ponte-Cosi 1-2, Marginone-Molazzana 0-1, San Filippo-Pieve-San Paolo 1-0, Tau Calcio-Gorfigliano, Diavoli-Neri-Gorfigliano 0-3. Diavoli-Neri-Gorfigliano 33 punti, sono la squadra campione d'inverno allungano in classifica, Marginone 27, Ponte-Cosi 25, Corsagna 24, Tau Calcio e Santa Maria-Monte 23. Lasciamo il calcio maschile, passiamo al calcio femminile, Serie B. L'Associazione Calcio Femminile Lucchese ha battuto nella gara giocata a San Giuliano Terme per 2-0 il Musiello-Saluzzo. Le reti del giallo-blu sono state segnate al quattordicesimo del primo tempo dalla Carrozzo e all'ottantacinquesimo nel finale il raddoppio della Manganiello. Siamo al basket, il Gesam Lemura non fallisce un colpo, non sbaglia un colpo e nella gara giocata al pala tagliate, di cui vediamo alcuni riflessi filmati, si impone nettamente 71-43 sulla Diche Napoli che era stata finora, ed è stata finora l'unica squadra capace di battere le bianco-rosse di Diamanti. La partita è stata equilibrata in realtà solo nei primi dieci minuti, il primo quarto si è chiuso sul 15-13, poi mano a mano le bianco-rosse trascinate dalla Harmon e dalla Francesca Dotto hanno scavato un solco significativo all'intervallo lungo 39-25, poi 53-30 e poi la partita si è conclusa 71-43 denotando una superiorità netta della capolista, nelle cui fila, come dicevamo, si sono messe in grande evidenza Gillian Harmon e Francesca Dotto, autrici entrambe di 21 punti. Rimane il primo posto in classifica, adesso domenica prossima, sempre al pala tagliate, ci sarà il quarto di finale della Coppa Italia contro il Torino. E ancora per il basket, siamo però alla Serie C Gold maschile, vittoria davvero di prestigio, vittoria importante del centro minibasket Genova di Coccia Piazza, anche qui vediamo alcune fasi, che ha battuto 57-41 la capolista Castelfiorentino. Missione compiuta dunque per la Genova che dopo le fatiche supplementari della Final Four di Coppa Toscana, è rientrata nel migliore dei modi nel clima campionato e chiude la fase ascendente del campionato con appena 4 sconfitte, come tutte le squadre in vetta e un turno da recuperare il 28 gennaio contro la Folgore Fucecchio. Davvero molto bella la prova dei ragazzi di piazza, vi proporremo un ampio servizio nelle prossime edizioni del Ticino in Sport. Il ciclismo, la versiliese Francesca Baroni della Melavi Focus Bike per il secondo anno consecutivo si è confermata campionessa d'Italia delle donne junior, parliamo di ciclocross. Con un assolo strepitoso, la ragazza di Bozzano ha dato spettacolo, dimostrandosi ancora una volta la più forte. Complimenti davvero a Francesca. Siamo all'Hockey, per il CCC Viareggio c'era la gara interna del Palavarsacchi contro il Trissino. Roy Lepore. Il 100 giovani cacciatori non disputando una buona partita contro il Trissino riesce comunque a vincere per 3 a 2. Senza Montiger squalificato per tre giornate i bianconeri devono stringere i denti. Passano però in vantaggio i Veneti con Aguilar al 16.50. La distanza ravvicinata neppure il tempo per gioire che Capitano Palagi porta subito il risultato sull'1-1. C'è poi la traversa di Bertinato che spaventa il centro giovani che passa comunque in vantaggio con Costa, diventato papà pochi giorni fa, su bellissimo assist di Muglia. Si chiude il primo tempo 2-1 in vantaggio per i bianconeri. Nella ripresa è un centro diverso, più determinato, ma subisce subito un palo di Aguilar e in questo caso è fortunato il portiere Barozzi. Muglia realizza il 3-1 con una rete di forza indirizzando la partita su un binario sicuramente più semplice per i bianconeri. Poi decimo fallo da parte del centro giovani calciatori, il Tristino va al tiro con Dalmonte ma si fa iptonizzare dal portiere Barozzi. Poi Rubio che non sfrutta il decimo fallo a favore dei bianconeri con il portiere Nicoletti che gli respinge il tiro. Mirko Bertolucci a 28 secondi dalla conclusione della partita non sfrutta una punizione diretta e poi quando siamo ormai allo scadere della gara arriva il secondo gol degli ospiti, porta la firma di Bertinato. Sabato i bianconeri volano in Francia per il ritorno di Coppa Cersa sulla pista de Plofagan, forti del vantaggio dell'andata per 7-4. 2, agevole successo della Nottolini nel derby che opponeva le bianconore alla Carrarese. 3-0 il punteggio finale a favore della squadra di coach Becheroni, 25-15, 25-12, 25-14. In classifica la Nottolini sale a 12 punti al quarto ultimo posto. Sabato prossimo importante trasferta sul campo del Baia Marinaio Cecil in un delicato confronto diretto per la salvezza. Chiudiamo con la bellezza, il nuoto sincronizzato a Massarosa. La magia del nuoto sincronizzato ha incantato stamani oltre un centinaio di spettatori che hanno assistito presso la piscina comunale di Massarosa alla chiusura di un collegiale della Nazionale Giovanile di Nuoto Sincronizzato con una esibizione delle bravissime fanciulle. A livello internazionale siamo quotati come Nazionale di Nuoto Sincronizzato? Direi di sì perché negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante grazie anche a uno staff coeso da Patrizia Giallombardo che è il direttore tecnico. Nell'ultimo quadroienno olimpico è stato fatto un lavoro enorme sia per quanto riguarda di collaborazione che di intenti e di mezzi messi a disposizione della federazione. Massarosa si conferma sempre di più il centro nazionale del nuoto. Dopo il meeting internazionale Mussi-Femiano-Lombardi ora le azzurre future olimpioniche. Siamo riusciti a ospitare il Nazionale Giovanile di Nuoto Sincronizzato per un collegiale che serve a selezionare le atlete per i prossimi eventi internazionali che si terranno nel 2017. Un gruppo di 20 ragazze da cui usciranno i 12 nominativi per la squadra che rappresenterà l'Italia ai prossimi manifestazioni del 2017. La manifestazione di nuoto sincronizzato di stamani nell'impianto massarosese è stata possibile grazie all'impegno delle insegnanti di sincro, Catiuscia Guidi e Cristiana Canova. Ospitare qua per una settimana intera la Nazionale Giovanile con 20 atleti è un evento eccezionale, unico e ripetibile a Massarosa. Le nostre famiglie, delle bambine, delle atlete si sono messe completamente a disposizione per ospitarle. Trasporti in auto, a dormire a casa, cene, colazioni, tutto quello che era necessario a loro carico. L'esibizione delle giovanissime notatrici di sincro ha regalato uno straordinario spettacolo frutto di un grandissimo lavoro di squadra fatto di impegno atletico, danza e passione per questa disciplina sportiva. Abbiamo chiuso in bellezza la pagina sportiva del TG Noi, vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa TG prosegue con la terza ed ultima parte.